Commento al Vangelo di venerdì 13 gennaio 2023, a cura di Don Vincenzo Marinelli. Egli annunciava loro la parola. Gesù era in casa e l'Evangelista narra genericamente che Gesù annunciava la parola. Non sappiamo cosa stesse dicendo in quel momento, possiamo solo immaginarlo. Probabilmente parlava del regno di Dio, dell'amore del Padre, dell'amore fraterno. Certo è che Gesù in quel momento preferì smettere di parlare per diversi motivi. Anzitutto perché la fede di quegli uomini che calarono dal tetto il paralitico si impose sulla scena e non si poteva eludere. Inoltre da quella situazione ne avrebbe tratto un insegnamento concreto per gli iscribili presenti, dimostrando loro che in Lui agiva il potere divino di rimettere i peccati. In aggiunta, dimostrò quanto il peccato nella vita può avere effetti anche sul corpo e sulla psiche, non solo morali e spirituali. Infine consentì ai presenti di poter rendere lode a Dio per l'accaduto. Dunque non importa quanto siano importanti i tuoi piani, gli argomenti delle tue conversazioni e quanto stai compiendo. Di ogni interruzione puoi fare in modo che divenga occasione per testimoniare l'amore di Dio, per edificare gli altri e per portarli a lodare Dio. Dipende solo da te.